A Kharkiv in Ucraina una stazione della metropolitana è stata trasformata in istituto scolastico, ciò per consentire agli alunni di continuare a studiare nonostante le conseguenze della guerra. Gli studenti delle classi superiori seguono un programma combinato che prevede sia corsi online che in presenza. Nell'aula allestita nella metropolitana sono previste tre lezioni con una pausa pranzo. Nella particolare struttura scolastica un medico e uno psicologo sono a disposizione degli studenti che possono contare su una ventilazione sufficiente e su un buon grado di isolamento acustico. La stazione può accogliere un totale di circa 400 studenti. Ci sono ancora alcuni posti liberi nelle classi delle scuole superiori, mentre quelli delle medie sono esauriti. La guerra in Ucraina ha distrutto già 1300 scuole, provocando gravi difficoltà a numerosissimi ragazzi che sono stati costretti a sospendere i loro studi.